Però Akin Mastur, italiano con genitori marocchini, 14 anni, appena arrivato al Milan dalla Reggiana, ha tutto per stupire, anche senza il pallone tra i piedi. Perché tutti ti vogliono? Perché forse in campo faccio cose che gli altri non fanno. Che cosa ti aspetti dal tuo futuro? Mi aspetto un futuro faticoso e spero con molte soddisfazioni. Dove vuoi arrivare? Il mio sogno è vincere il pallone d'oro. E come si fa a vincere il pallone d'oro? Con tanta fatica, sudore e impegno. Pensi di farcela? Spero. Il ragazzo prodigio diventerà un prodigio e basta? Cercherò di apprendere il più possibile e dare sempre il massimo. Il ragazzo prodigio diventerà un paese. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...